ciao a tutti amici siamo anche gli amici di news biella che so che ci seguono vero che ci seguono ci seguono come potete vedere siamo arrivati a gibilterra dopo 2268 chilometri da biella rocca la si vede sì sì e domani faremo la traversata qua dallo stretto andremo in marocco quindi e proseguiremo il giro quello quello succoso quello per il quale siamo partiti per fare poi voglio fare un appello agli amici biellesi che dicono che a biella non si fa mai niente non c'è mai non è vero non è vero perché non leggono news biella perché se leggessero news biella c'è le notizie ci sono ci sono un sacco di cose ad esempio il nostro viaggio da seguire giusto no robbie sui social robbie rastello e abba ragiotta ciao ragazzi a presto ciao seguiteci ciao